Ancora nessuna certezza in merito alle cause dell'incendio che lunedì sera ha fatto cinque morti alle porte di Parigi. I vigili del fuoco si interrogano in particolare sulla rapidità con cui le fiamme si sono propagate all'interno dello stabile di quattro piani di Saint-Denis, all'immediato nord della capitale francese. Sei le persone tratte in salvo, mentre i corpi carbonizzati dovrebbero corrispondere a quelli di un'inquilina, dei suoi tre figli e di un'amica.